e comunque forza napoli un giorno all'improvviso mi innamorai di te buonasera vado a forza napoli allora ragazzi vi devo raccontare questa cosa perché è una cosa proprio straordinaria allora io in questi giorni esattamente ieri ricevo un massaggio da un amico fidato dici tome mi devi fare la cortesia vai da su google e fai questa ricerca cesso d'italia beh la verità io stavo al lavoro e manca a falla e posto io lavoro con un collega che è rubentino si chiama andrea a città andrei a scusa a città a te che non c'ho con nessuno per piacere prendi il telefono mi scrivi un attimo su google mi fai la ricerca cesso d'italia perché non lo so ma hanno detto che esce una strana cosa ma che esce no no niente non lo so mi hanno detto che esce una strana cosa ma me la fai questa cortesia io non c'ho con nessuno comunque l'ha piccato e ha scritto cesso d'italia voglio fare il stesso a voi allora allora qua vedete google ha metto cesso cesso comunque lui è andato su google e ha messo cesso ma lei d'italia ha messo cesso d'italia e chiudono ha cliccato ok e guardate un poca qui l'aeroporto guardate un poca l'aeroporto guardate un poca l'aeroporto giusto giusto al centrocampo cesso guardate guardate con i vostri occhi guardate con i vostri occhi vedete guardate un poca rubendi guarda guarda fare il cerchio pure tu rubendi guarda cesso d'italia niente di meno non dico vanno veare con lui vuole che non vanno che comunque fa Israeli 9 sehen anche se a junior cesso d'italia l'amico mio è rimasto c'ho gli occhi per l'amico mio gli occhi per gli occhi sono riusciti fuori dall'arbita con questi macchini quindi hanno lato solo invece cesso d'italia ricerca google guarda ricerca Google cesso d'Italia vi invito tutti i rubenini cari rubenini se volete venire in vostro stadio è semplice basta che voi mettete cesso d'Italia giusto giusto al centro del campo vado a battere sulla pallacina è stato un due cesso ciao a tutti un bacione è sempre forza Napoli perché tutto riesce è cesso d'Italia voglio ricordare agli amici che mi seguono per chi vorrebbe seguirmi su Instagram nelle info ci troverete il link in descrizione ciao a tutti un bacione è sempre forza Napoli perché tutto riesce a munnezza fate la ricerca vi raccomando forza Napoli paga il Parapaparagla jibu Parapapapapapapapapapapapapapap